Grazie a 2020 abbiamo potuto fare importanti investimenti su tre dei nostri edifici scolastici per un importo superiore ai 460.000 euro e sono somme di cui noi non avremmo potuto disporre senza invece la possibilità di utilizzare un finanziamento privato che verrà ripagato tramite la ESCO grazie al risparmio energetico, un risparmio immediato anche se piccolo inizialmente ma più grande successivamente per il comune. L'importanza della città metropolitana come stazione al paltante su questo per noi ha avuto un grosso ruolo perché per i nostri uffici seguire un appalto di questo tipo avrebbe voluto dire impegni e risorse umane che sovente non abbiamo.